Buongiorno a tutti. Inizio la mia presentazione parlando di due miei amici, Christian e Roberta. Loro hanno indagato sulle proprie origini, le proprie origini, in una maniera molto particolare. Hanno inviato un po' della loro saliva ad una società che scopre le origini delle persone a partire dall'analisi del DNA. In che maniera? In una maniera molto semplice. Noi siamo infatti il prodotto genetico del DNA dei nostri genitori, che a loro volta lo sono dei nostri nonni, che a loro volta lo sono dei loro genitori. Quindi in noi ci sono le tracce del DNA dei nostri antenati, che potrebbero provenire da luoghi diversi. Vediamo infatti i risultati di Christian e Roberta dopo questo test genetico. Christian, come vediamo, ha una grande percentuale di DNA simile a quello di persone che attualmente vivono in Italia. Ma allo stesso momento vediamo che una buona parte del suo DNA è appartenente o è simile a quello di persone che vivono nell'est Europa, in particolare in Slovenia. Se invece vediamo i risultati di Roberta, osserviamo come il suo DNA sia sempre simile a quello di persone che vivono e abitano in Italia al momento, e allo stesso tempo ha dei segnali di DNA simili a quelli di persone che abitano la Grecia o la penisola arabica e l'Iran. Qua vediamo che sono due profili diversi, ma in realtà dobbiamo considerare, come vedremo fra poco, che le differenze sono veramente minime. Quindi da questo vediamo che noi siamo un mosaico di geni ereditato dai nostri antenati che c'era una storia millenaria. Ed è proprio qua che, con questo talk, vi voglio portare un viaggio verso il passato a partire dai dati del presente. Ma per far questo dobbiamo fare un passo indietro. Ho parlato molte volte di DNA, spesso si parla di DNA, ma che cos'è il DNA? Il DNA è una molecola, detta anche molecola della vita. Questa molecola può essere estratta, come nel caso di Christian e Roberta, dalla saliva, ma allo stesso momento può essere estratta anche dal sangue. Essa è costituita da delle lettere. Queste lettere sono sempre quattro, A, C, G e T. E queste lettere, il loro ordine, il diverso ordine rende me quello che sono e Christian o Roberta quello che sono o chiunque persona quello che è. Queste lettere sono tantissime, sono circa 3,3 miliardi e insieme caratterizzano quello che noi chiamiamo il genoma. Questo genoma si può comprare, quindi io posso comparare il mio con quello di una qualsiasi altra persona sulla Terra. E il loro ordine e le loro somiglianze sono grandissime. Infatti il mio genoma è simile per il 99,9% con quello di qualsiasi altra persona che abita la Terra. E quindi solo lo 0,1%, una lettera ogni mille, è diversa. E proprio su questa differenza si può anche scoprire le proprie origini, come abbiamo visto precedentemente. Ora vi ho parlato solo di due persone, quindi di due miei amici, ma immaginiamoci uno scoprire le origini su una popolazione. Quindi, per esempio, immaginiamo di scoprire le nostre origini sulla popolazione italiana. Ed è questo quello che io ho cercato di fare insieme a 30 altri ricercatori appartenenti a università italiane ed estere. Ho cercato, insomma, di dipingere, creare un ritratto genetico dell'Italia. Per far questo avevamo bisogno di un campione, quindi una serie di individui rappresentativa di tutta l'Italia. E dove sono stati presi questi campioni? Questi campioni sono stati presi in un'occasione molto particolare, la Dunata degli Alpini, del 2013. In questa occasione è stato infatti possibile raccogliere i campioni di moltissime persone. Perché? Perché durante questo evento migliaia di persone appartenenti a luoghi diversi dell'Italia si trovavano nello stesso momento, nello stesso luogo. E da questi campioni è stato estratto il DNA. E il DNA è stato comparato con quello anche di altre popolazioni europee e mondiali. E questo è il risultato. Il risultato è una mappa genetica dell'Europa. In questa particolare figura, in questo particolare grafico, noi vediamo che ciascun individuo è rappresentato da un puntino e la sua posizione nel grafico è il riassunto del suo genoma. Quindi vuol dire che puntini più vicini hanno un genoma simile, puntini più lontani hanno un genoma molto diverso. A una prima vista, questa cartina, questa mappa genetica dell'Italia, dell'Europa, non ci dice nulla. Ma nel momento in cui noi ci posizioniamo vicino una cartina geografica, la cosa diventa molto interessante. Infatti, vediamo che come la disposizione dei paesi su una cartina genetica ricorda quella geografica, con anche i mari evidenziati. Infatti, se osserviamo, a sinistra dei Balcani c'è uno spazio bianco e questo spazio bianco rappresenta il mare Adriatico. Ma gli italiani come si posizionano in questa cartina? Si posizionano in questa maniera. Tutti i puntini colorati sono gli italiani. Colori simili indicano un'appartenenza genetica simile. Quindi i puntini azzurrini avranno qualcosa di più simile dei puntini, per esempio, marroni. E la cosa diventa ancora più interessante nel momento in cui questi campioni, questi individui, vengono rappresentati in base alla loro origine. E la loro origine porta a questa rappresentazione. In poche parole, noi vediamo che, sorprendentemente, campioni che hanno una genetica simile, quindi campioni, per esempio, azzurrini, si posizionano in una parte, sono originari di una parte dell'Italia, mentre campioni marroni si posizionano in un'altra parte. E proprio dalla mappa genetica, la mappa genetica ricorda in maniera sorprendente la mappa geografica, con anche il tacco dello stivale dell'Italia evidenziato. Vi faccio notare come, in questa cartina genetica, l'Italia occupi un grande spazio, quindi è molto allungata. Questo per quale motivo? Il motivo è semplice. In Italia noi abbiamo riscontrato, si riscontra, la maggiore variabilità d'Europa genetica. Insomma, l'Italia ha una variabilità genetica paragonabile a quella dell'intera Europa e più alta di altri Stati europei. Quindi, se noi prendiamo, per esempio, Cristian e Roberta, loro sono diversi, tanto quanto potrebbe esserlo uno spagnolo o un danese. E ricordo, faccio un inciso, questa diversità è minima, è solo calcolata all'interno dello 0,1% di diversità. E questo per quale motivo noi siamo così variabili o diversi? Perché siamo stati, l'Italia è sempre stata un crocevia di popoli e di popoli che si sono susseguiti l'uno con l'altro durante la nostra storia. Qua la domanda sorge spontanea. Quali sono stati questi popoli? E per rispondere a questa domanda viene in nostro aiuto un nuovo attore, che è il DNA antico. Infatti, dai primi anni 2000 è stato possibile estrarre il DNA a partire da reperti archeologici anche datati decina di migliaia di anni fa. Questo DNA letto, cioè letto alla stessa maniera di come è stato letto quello moderno, è possibile confrontarlo. E quindi da questo confronto è possibile ricavare o valutare quali sono state le migrazioni che hanno caratterizzato le varie popolazioni, in questo caso l'Italia. Adesso vediamo cosa è presente nel genoma degli italiani e appartiene alle popolazioni antiche. Come prima cosa vediamo che l'Italia, nel genoma degli italiani, abbiamo identificato un segnale, un segnale appartenente a quelle popolazioni che per prime sono uscite dall'Africa e hanno colonizzato l'Europa e che si sostentavano principalmente di raccolta e pesca. Queste popolazioni sono giunte in Europa in epoca paleolitica, circa 50.000 anni fa. Successivamente abbiamo identificato un nuovo segnale. Questo nuovo segnale, questo segnale deriva da delle popolazioni invece di epoca neolitica. sono quelle popolazioni per le quali gli archeologi si riferiscono che hanno introdotto l'agricoltura in Europa e anche in Italia. Successivamente abbiamo scoperto altri due segnali risalenti all'epoca del bronzo. Il primo appartenente a delle popolazioni nomadi delle steppe russe che hanno introdotto il loro DNA in noi, ma allo stesso modo anche il cavallo o la ruota. Parallelamente abbiamo scoperto dal DNA un'altra migrazione che dall'Anatolia, nello stesso periodo, è giunta in Italia, passando molto probabilmente dalla Grecia. Infine abbiamo definito all'interno del genoma italiano quello che noi chiamiamo un segnale pan-mediterraneo, il quale è stato introdotto soprattutto nel genoma dei sud italiani durante il Medioevo e durante la dominazione araba. Quindi se noi prendiamo in esame quello da cui siamo partiti, quindi il genoma di Christian e il genoma di Roberto, vediamo che questi segnali sono ancora presenti in noi e sono presenti anche in queste due persone. Questo, per concludere, vi fa capire come l'Italia sia stata sempre e da sempre, da millenni, un crocevia di popoli e culture che si sono sosseguiti e che ci hanno arricchito e probabilmente lo sarà anche negli anni a venire. Io concludo questa presentazione ringraziando e facendo un grazie speciale alle persone che hanno contribuito a questa ricerca. Una di queste è Christian, quindi nonostante è mio amico e anche uno dei ricercatori che ha ideato e contribuito a questo studio, Serena e Francesco, e anche un grazie infinito a tutte le persone che mi hanno aiutato nella realizzazione, nel workflow di questa presentazione. Grazie mille a tutti.